Baby K, la più aggressiva, energica, post-feminista rapper italiana, vera femmina alfa della musica giovanile, è la testimonial di Love It, la campagna più spregiudicata e dirompente sulla contraccezione, cioè la sessualità liberata e disinibita finché si vuole ma vissuta con un po' di cervello. Sessualità consapevole appunto come specifica il titolo di Love It. Love.it è l'amore in Italia, la sessualità nel paese ultimo in Europa per la contraccezione ormonale, il 15% delle italiane prende la pillola, la metà delle donne tedesche, inglesi e francesi sono al 40%, le olandesi al 50%. Baby K, la campagna Love It ci dice che la sessualità non è solo una questione di letto. Non è solo una questione di corpo e di feeling a livello puramente sessuale ma si va ben oltre, è importante appunto affrontare la sessualità con una consapevolezza e anche prendendosi delle responsabilità. Ora in tutti i tuoi concerti saranno distribuiti questi braccialetti colorati? Sì sì certo, come simbolo un po' di tutta la campagna e la presa di coscienza in questo senso saranno distribuiti appunto questi braccialetti che indosserò anche io sul palco con molto piacere quindi è un po' un simbolo della propria indipendenza.